Per una volta il risultato della partita è passato in secondo piano e a catturare l'attenzione è stato il gesto che i genitori dei ragazzi classe 2001 dell'Unione Sportiva Santa Firmina hanno voluto dedicare a Matteo Roghi, il capitano della formazione giovanissimi del Foiano, scomparso prematuramente a causa di un malore al termine di una partita del proprio campionato. Sopra le divise da gioco i ragazzi giallo-verdi hanno indossato una maglietta dedicata al giovane calciatore amaranto durante l'ingresso in campo della loro ultima partita, proprio contro gli amaranto del Foiano. L'iniziativa è nata dai genitori dei miei ragazzi, tuttavia prima di prendere qualsiasi decisione al riguardo, ci tiene a sottolineare Gianni Mattesini, allenatore degli esordienti del Santa Firmina, abbiamo interpellato i dirigenti del Foiano perché aspettava loro dare l'ok. In particolare è stato il nostro dirigente Daniele Agostini a mettersi in contatto con gli stessi dirigenti amaranto che ci hanno ringraziato e hanno detto che la famiglia di Matteo Roghi ha gradito tutte le azioni messe in atto per ricordare il ragazzo. La partita alla fine ha visto il successo dei padroni di casa del Santa Firmina che grazie anche a questa vittoria sono riusciti ad accedere al turno successivo del campionato con le migliori formazioni del torneo. Ma per una domenica almeno il risultato in campo non è stato al centro dell'attenzione come lo è stato il gesto dei genitori e dei ragazzi del Santa Firmina.